La vigilia è molto importante perché voglio ricordare che domani giocheremo con quella che è considerata la migliore squadra del campionato. Siamo concentratissimi, ho sentito i giocatori proprio stamattina, siamo consapevoli di ingonzare una corazzata, però quello che ho detto ai ragazzi è che noi giochiamo contro 11, la palla è rotonda, quindi giochiamo 90 minuti tutti e due. Ho detto ai ragazzi di rispettare tutti ma non temere nessuno perché anche noi siamo una squadra da rispettare, una squadra che è ben organizzata, quindi penso che domani ci sarà una bella partita e che venga il migliore.